Buongiorno. Ciao. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto grazie di avermi fatto fare questo video, almeno dopo un workout, che sono leggermente più caldo. Ma l'hai fatta anche te Samani? Alla fine l'ho fatta anche io. La prossima volta mi presenterò con una fascetta. Alla fine ero più salvato io di loro che erano in casa. Perché spiegare e fare è difficilissimo. Poi meglio erano in alto o peggio al corpo. Ok, allora, stamani facciamo Parivitta Parsvakonasana. Cerchiamo di affine dov'è la difficoltà, è una delle tue risoluzioni più difficili, decisamente. Quindi vediamo un attimino da dove possiamo partire. Intanto, come sempre, facciamo prima il conteggio e poi facciamo la spiegazione. Sì. Quindi si parte dal tappetino. Per qui, quando torniamo indietro, noi qui abbiamo di nuovo Ekam, cerchiamo indietro la gamba destra, poi ovviamente entriamo nella posizione. Accendala e basta. Accendala su, semplicemente. Il parivitta. Però il parivitta, ecco. L'attorsione. Sì sì, accendala. Ho fatto il workout ma non ho fatto stretching. Comunque, a fondo del genocchio, giusto? Il genocchio resta solo dall'articolazione. Sì sì sì, intanto poi spieghiamo. Accendala e basta. Ok. Questo qui è due, quando si entra nella posizione, qui si resta, tre respiri. Uno, due, tre, quattro, cinque. Trini si risale su, si ruota in sinale direzione, e cioccuari è che si entra nella posizione al contrario. Che posso farci, ma? Che si ritirà. La posso semplicare. Pancia si risale su, dopo cinque nostri respiri, e siamo siti in nel rientro. Quando si sta Uttita e parivitta insieme, non c'è l'uno. Ti ricordi? Sì. Quindi accendiamo tutto il pacchetto di Uttita e parivitta. Quindi Uttita è Ekam, inspiro, vado indietro, entro due nella posizione, resto per cinque respiri. Quattro, tre, due, uno. Trini si risale, si cambia direzione. Chatuari si scende giù e qui si resta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Pancia si risale, e questo è anche uno. Per cui due, si scende e si va alla parivitta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Quindi si risale, si cambia direzione. Chatuari si scende e si prende posizione da quest'altra parte. Cinque respiri, poi si risale su pancia ed espirando. Samastit. Non è che mi faccia molta buona complicità. No, no, no. A è mattina, B è stricco. Ok. Allora, possiamo vedere le modifiche per imparività. Quindi, andando indietro, fanno accendere solo da una parte. La cosa migliore che si possa fare è ritratci con il ginocchio pirato. Quindi, ginocchio sinistro a terra. Ah, sì. In modo da portarlo giù, braccio sinistro verso l'alto, si inspira ed espirando si entra nella posizione. Qui, mani una sopra l'altra e la cosa fondamentale sono i conti. Devono essere alti, non devono essere morti giù, devono essere altissimi. E il braccio sinistro, il gomito sinistro, deve spingere contro il polpaccio e contro il ginocchio. Il ginocchio, in questo caso, spinge contro la spalla. Così da non avere il ginocchio che entra dentro. Quella non è una pressione. E tra l'altro questa pressione del ginocchio mi aiuta anche a entrare ancora di più in pressione. Nella pressione, assolutamente. Comunque io ho tutto l'addome appoggiato sulla coscia. L'addome è lungatissimo e appoggiato sulla coscia. Da questa posizione, ovviamente, chi riesce, porta la mano sinistra a terra, tutta la mano. E attenzione, il braccio deve essere sopra, cioè il ginocchio è dentro la scella. Il braccio non è davanti a tagliare le tiglie. Quella non è la posizione. E la nostra mano deve stare più o meno ad altezza del tallone, non avanti. Quindi, cosa fondamentale, ginocchio dentro la scella. Da questa posizione proviamo a distendere il braccio destro in avanti, sempre portando il palmo verso il pavimento, aprendo bene 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 il petto. Chi riesce, anche lui va a gradi, chi riesce, prova anche a stendere la gamba dietro, arrotarla, arrotare il piede e portarlo a terra e mantenere questa posizione per cinque respiri. Quindi abbiamo visto quali possono essere le propiedeutiche. che esce lui dalla posizione. Ok? Quindi la propiedeutica migliore è iniziare con le mani in ginocchio, ovviamente, a terra, le mani sono giunte una sopra l'altro, l'altra e si spinge. Lì possiamo anche decidere se è possibile di distendere la gamba e rimanere in quella posizione intermedia. Chi vuole tentare di allungarsi propriamente, invece di mantenere la pressione sulle mani, porta ovviamente la mano sinistra rispetto alla gamba destra, siamo opposti, a terra. Non deve mai accoggiare, non devono mai accoggiare le dita, perché così ci si fa male sulle falange. Il palmo deve essere bene accoggiato a terra, è fondamentale questo, sennò si rischia di farci male. Perché è anche da lì che scariciamo il piede. Eh, non solo, è lì che spingiamo e più c'è spinta, più riusciamo ad aprire la torsione. Meno siamo spinta, meno riusciamo ad aprire la torsione. Questo vale anche per il piede dietro è a 45 gradi, non a 90 come nell'apertura della fronte. Cioè la mano deve spingere, è fondamentale. Perché quello ci permette proprio di acquinire il petto al massimo. Ok? Il bacino sta giù basso? Allora, il bacino, sì, è basso. Questa posizione rispetto al dita ha il bacino rivolto in avanti. Quindi il piede dietro è a 45 gradi, non a 90 come nell'apertura della fronte. Ok? Quindi, queste sono le cose le più importanti riguardo al Parivitta Pasa Konasara. Ovviamente è una posizione di interenza. La situazione è intensa perché è una cosa importantissima è l'allungamento. Se noi pulviamo la schiena, ci sbilanciamo verso un lato e cadiamo. Quindi spesso quando si fa la posizione è perché semplicemente non abbiamo allungato la schiena. Invece la schiena deve essere lunghissima e tutto l'addome deve essere attaccato alla coscia per permettere proprio l'equilibrio, la linea, attaccato all'addome, questa compattezza che non crea disabilità. Ok? Va bene? E niente, io questa posizione per mesi l'ho fatto abbastanza sbagliata perché ero comitato di dover puntare il braccio su un altro invece è... No, il braccio, dobbiamo sempre pensare che in Parivitta Nasana c'è questa diagonale che parte dal piede, quindi camiglia, anca, spalla, colso ed è una diagonale, non si interrompe. Perché se tu non portassi il braccio in avanti avresti il bacino, quindi il piede, il ginocchio, l'anca che arrivano qui e poi fai questo. Invece no, deve essere proprio una continuità, una diagonale più ferma. È tutto un allungamento. È tutto un allungamento, assolutamente. Lì bisogna proprio aprire, tirare, 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 tutta questa parte vi tira e la cosa bellissima queste posizioni qui è l'attivazione degli addominali qui, che sono ristabilizzatori e sono fantastici, lavorano in maniera potentissima. Quindi tanti addominali. come sempre. Come sempre. Non si scappa. Cosa mi sa che stiamo per svegli adesso. Assolutamente. Ok, va bene. Io vi ringrazio, ovviamente andiamo tornando. Ciao. E ci vediamo alla prossima. Saranno i... Rosalita. Rosalita, con tutta nasana. A, B, C e D. Ok, va bene? Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.